Ben trovati nella nostra pagina sportiva, dunque Diego Gabriel Raimondi, il primo colpo di mercato del Perugia, un difensore di grande esperienza, il pupillo del presidente Leonardo Covarelli, una bandiera del Pisa negli ultimi anni, avendo militato con la formazione nera-azzurra dalla stagione 2006-2007, quando con 29 presenze e due reti contribuì alla promozione in Serie B. L'anno scorso Raimondi si è ripetuto e ha giocato ben 40 partite con due reti, mentre quest'anno lo spazio si è un po' ridotto per il forte difensore centrale argentino, che ha giocato solo quattro partite, ultima delle quali contro il Cittadella nella sconfitta interna del Pisa per 3-0. Diego Gabriel Raimondi, primo acquisto dunque del Perugia, anche se naturalmente l'ufficialità arriverà solamente con la riapertura delle liste, martedì prossimo, 7 gennaio, è nato in Argentina a Buenos Aires il 27 settembre del 1977, dunque compirà 32 anni il prossimo 27 settembre, è un difensore di stazza a 185 cm per 79 kg. In passato in Italia ha giocato anche due stagioni nel Casarano nel 2001 fino al 2003 e poi ben tre stagioni al Gallipoli, contribuendo alla scoperta del calcio professionistico anche per il Gallipoli, dato che quando è arrivato a Gallipoli la squadra militava nel campionato di eccellenze, quindi grazie anche al suo contributo sono arrivate le promozioni prima in Serie D, poi in C2, prima del trasferimento a Pisa. E parliamo anche di calcio con il torneo Città di Bastia.